Nella magnifica location dell'hotel Excelsior con Elena Leonessa per parlare della ripartenza di un settore nevralgico per l'isola d'Ischia come quello termale. È arrivata la tanto attesa ordinanza, ora bisogna solo riaprire e aspettare che possano arrivare anche i turisti. Sicuramente, infatti siamo anche in attesa del 3 giugno per capire quali regioni saranno aperte in modo da poter veicolare naturalmente i turisti che sono necessari per la riapertura, che sono innanzitutto la materia prima per la nostra isola in quanto il turismo è possibile nel caso in cui ci sia la mobilità e quindi aspettiamo naturalmente notizie per capire se oltre ai residenti in campagna chi potrà arrivare qui a Ischia da noi. Una regione, la nostra, che insieme al Veneto fa praticamente il 60% del mercato termale italiano, ha deciso di muoversi con anticipo con un protocollo che sembra in qualche modo tutelare un po' tutte le parti. Sicuramente questo protocollo in realtà è stato creato da Feder Terme insieme al Forst, che naturalmente l'avevano già proposto inizialmente prima che loro chiudessero le piscine termali. Poi c'è stato un grande lavoro da parte di Feder Terme del nostro presidente, il dottor Caputi, che naturalmente insieme a tutti i rappresentanti delle regioni, al comitato scientifico, quindi alla conferenza Stato-Regioni, è riuscito due giorni fa, diciamo tre giorni fa, ora non ricordo precisamente, a fare questa modifica a quello che diciamo il protocollo generale. Così appunto ci ha consentito di poter riaprire le piscine termali e anche quelle di acqua di mare e anche diciamo quelle che sono le attività relative ai nostri stabilimenti, che sono appunto fanghi e bagni che naturalmente comunque in precedenza non erano stati, diciamo comunque, non erano stati chiusi, erano ancora attivi, e disciplinando naturalmente quelle che sono le persone che saranno nelle piscine, per i famosi 7 metri quadri se naturalmente nuotano, 4 metri quadri invece se saranno fermi. Quindi diciamo ci ha dato idee precise su quelle che saranno le norme che noi dobbiamo seguire affinché possiamo aprire in tutta la sicurezza per quelli che saranno i nostri clienti. Nell'attesa di scoprire come sarà farsi fare dei fanghi portando addosso la mascherina, non si può che però porre l'accento sul fatto che questo settore, magari anche con la spinta che arriva da questa brutta crisi economica che stiamo tutti attraversando, possa rappresentare l'occasione definitiva per un rilancio dell'isola d'Ischia come di un'isola aperta tutto l'anno, è d'accordo? Allora io sarei per l'allungamento della stagione, ma sinceramente preferisco occupare in qualche modo, non dico al 100%, ma in maniera diciamo quasi piena i mesi che in realtà noi abbiamo, che sono relativi diciamo all'apertura fino a ottobre, novembre, perché poi alla fine diventa difficile spalmare su tutto l'anno una presenza che diciamo diventa minimale, perché tutte le persone che in realtà vengono durante l'inverno sono quelle persone che prima da noi venivano a ottobre, per cui noi teniamo diciamo un'occupazione in realtà piena dal mese di aprile fino a novembre, invece ora ci ritroviamo che già maggio e ottobre in realtà abbiamo una bassissima occupazione e non facciamo né una bella stagione diciamo estiva né una stagione invernale, quindi in realtà io propenderei per una qualità diciamo allungando la stagione diciamo fino ai mesi che ha da noi ancora bel tempo e magari facendola bene. Dal punto di vista turistico ci lasciamo con una previsione su quella che sarà l'estate, ovviamente è una previsione che facciamo senza avere la coscienza di tutte le carte che abbiamo in mano, di tutte le carte che lo Stato e le Regioni hanno in mano. Che tipo di estate sarà? Innanzitutto ci sarà una vera estate lavorativa? Siamo tutti quanti cercando di recuperare il possibile perché in realtà con tanta buona volontà e tanto ottimismo cerchiamo magari di aprire quello che è possibile, anzi voglio dire quelli che apriranno sono da premiare perché è veramente un'impresa, cioè sta diventando un atto di eroismo. Però in tutto questo se vogliamo vedere il bicchiere dal lato pieno cerchiamo magari di recuperare, di fare almeno questi tre mesi. La cosa importante per noi sarà quando apriranno le frontiere perché specialmente le strutture che hanno un livello un po' più alto comunque hanno turisti che non vengono dall'Italia come principali clienti ma hanno turisti che vengono da fuori. L'America, voglio dire, l'Inghilterra è un mercato che per il momento possiamo dimenticare. Però può essere sempre che voglio dire metà agosto siamo talmente fortunati che aprono e possiamo recuperare su settembre, ottobre e magari arrivare anche a metà novembre. Con una battuta, qualcuno ha storto il naso all'annuncio del ritorno a Ischia di Angela Merkel. Un'imprenditrice invece questa notizia come la vede? Allora per noi che facciamo questo lavoro qualsiasi cliente è benvenuto quindi può essere la Merkel o Belen, diciamo per noi è la stessa cosa anche se naturalmente se veniva Belen avrebbe avuto un altro effetto. Appena arriva lei saranno aperte le frontiere per tutti quindi potrebbe ogni tanto essere un po' più simpatica con noi italiani però voglio dire va bene anche lei, basta che vengono.